Salve Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e l'anima. Salve Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e l'anima. Salve Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e l'anima. Salve Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e l'anima. Grazie. 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 Grazie a tutti.